Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Allora, comunicazione di servizio a causa di temporanei problemi col canale per via dei due avvertimenti sul copyright che mi sto chiedendo perché sono loro pratici in queste porcate io non sono pratica dopo 8 anni di YouTube loro hanno il dito più veloce del web per fare le porcate e attualmente non posso fare live ma solo video in questo canale per cui sto facendo le live nel secondo canale JulieFly79.2 che non ho aperto per i porci del trogolo la cooperativa dei porci del trogolo per citare uno dei denunciati che rivolgendosi a me in un vocale ha detto non ti si può dare neanche del maiale perché del maiale si usa tutto questa cosa è perfetta per voi che è un insulto darvi dei maiali perché i maiali essendo animali non si comportano come voi perché gli animali in natura le bestie e neanche le bestie feroci perché le bestie feroci attaccano per istinto e non per cattiveria quindi non siete neanche paragonabili alle bestie è un insulto offendere i maiali paragonandoli a voi comunque il secondo canale è attivo credo da tre anni almeno forse qualcosa di più e ci sono su più di 300 video l'avevo messo quando c'erano le vecchie norme sul copyright perché prima io ho sempre fatto vlog se capitava in radio una canzone non ti accorgevi del pezzettino di canzone se ti arrivavano le segnalazioni del copyright rischiavano di chiuderti il canale con niente facendo io vlog molto lunghi capitava a volte che mi sfuggisse qualche canzone e poi sono cambiate le norme non sapevo che una volta cambiate erano retroattive quindi che non valevano più eventuali canzoni o cose nel canale vecchio sono tornata a fare i video anche sul primo adesso in attesa di risolvere questa incresciosa situazione le live per ora le faccio lì JulieFly79.2 quindi ci vediamo lì come al solito io non vi chiedo di iscrivervi perché sapete come sono fatta non l'ho mai chiesto in otto anni non lo chiederò certo adesso anzi lasciate dei dislike se non vi piacciono i video il canale non è monetizzato perché questi qua parlano 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 e tutti sotto poco fa ho visto una puccioseria che parlava delle presunte ricariche poste pay però il numero di poste pay ce l'hai tu miss la bocca da pino sotto non io se volete mandarmi un regalino ce l'avete voi sotto i vostri video non io l'indirizzo di paypal ce l'avete voi sotto i vostri video non io l'anima di alla vostra madre per quattro visualizzazioni di merda ve la vendete voi non io top liste amazon raccolte fondi per bambini immaginari le uniche uova che ho visto sono quelle che vi ho rotto nel paniere top quindi ci vediamo su giuliflay 79 2 per le live e più tardi sarà lanciata una challenge pucciosissima vi do uno spoiler si chiama rischia la reputazione vi spoilerò questa cosa pucciosissima non credo che tutti parteciperanno visto che è richiesto di mostrare delle carte che si prendono al casellario giudiziario e si riprendono facendo certe analisi del sangue dell'orina dei capelli io partecipo le mostrerò orgogliosamente non so se tutti possono fare altrettanto partecipare a questa pucciosa challenge rischia la reputazione dopo che rischia il gusto ha spopolato adesso rischiamo la reputazione visto che mi avete tirato dentro voi in questo gioco di mettere in ballo la mia reputazione senza che io vi abbia fatto assolutamente un cazzo adesso vediamo vediamo chi è pulito e chi può mostrare carta canta e chi invece non può partecipare alla challenge pucciosa top ci vediamo su giuliflay 79 2 un bacio oggi sono poco presente perché carabinieri operai operai carabinieri carabinieri operai top 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 stai attenta stai attenta stai attenta stai attenta stai attenta occhio stessa cosa valga per tutti gli altri della cooperativa adesso la chiamerò la cooperativa ringrazio chi mi ha suggerito questo nome non farò il nome ma una carissima amica a cui mando un bacio enorme è un'amica a cui sono affezionati simissimi simissimi simissima una mia follower nonché carissima amica che non mi ha mai come ho sempre come ho sempre detto io di questa persona non mi ha mai pugnalato alle spalle neanche quando mi avete buttato addosso una valanga di merda per quattro visualizzazioni di merda per le quali vendereste l'anima di vostra madre viva o morta che sia perché fate schifo ok vi ho buttato impasto ai maiali vi ho buttato impasto ai legali ciao top amici vuoi dire qualcosa vieni qua vieni qua amore vieni qua vieni qua a dire qualcosa sì 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 la mamma ti dà un biscotto la mamma ti dà un biscotto amore sì la mamma ti dà un biscotto top and for un 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 il un 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 un